Proficua la provocazione del sindaco Coppola nei confronti dei commercianti agropolesi durante la trasmissione andata in onda nei nostri studi, nella quale il sindaco ha lamentato la mancanza di proposte da parte dei commercianti di Agropoli. Con lo scopo di ridare spessore al commercio in città, i commercianti del centro cittadino hanno deciso di creare un'associazione che comprenderà tutti i negozianti di Piazza Vittorio Veneto, Piazza delle Mercanzie, via Piave, via Mazzini, via l'Europa, Corso Garibaldi, via Patella e via Carmine Rossi. L'associazione vedrà istituita l'autotassazione dei partecipanti al fine di creare un fondo cassa utilizzabile per le iniziative. Un'altra idea dei commercianti è quella di attivare la filodiffusione della musica per le vie del centro per tutto l'anno e non solo nel periodo natalizio. Altra iniziativa di notevole rilievo è quella di creare un servizio navetta che porta i turisti di Capaccio Pestum in visita ad Agropoli per sfruttare e appieno le potenzialità delle due città e il famoso protocollo d'intesa. Il primo incontro dell'associazione si è svolto lo scorso 20 febbraio, mentre il prossimo sarà mercoledì 26 febbraio alle ore 15 presso il Bar Nazionale in Piazza delle Mercanzie.